Buongiorno a tutti, accendiamo il forno a 180 gradi e andiamo a preparare una nuova ricetta prepariamo dei biscotti per la colazione oggi per la felicità di quanti piacciono i biscotti oreo andiamo a preparare i biscotti con gli oreo, è una piccola sorpresa per preparare i biscotti con gli oreo ci occorreranno mezzo chilo di pasta frolla nella quale avremo messo un cucchiaio di nutella e una confezione di biscotti oreo stendiamo la pasta frolla dello spessore di un centimetro ritagliamo il doppio dei dischetti di quanti sono i biscotti oreo a questo punto andremo ad adagiare in mezzo ad ogni dischetto un biscotto oreo e poi andremo a ricoprirlo con un altro dischetto dovremo avere l'accortezza di sigillare bene i bordi poi li andremo a posizionare su una teglia da forno rivestita di carta forno una volta preparati li andiamo ad infornare a 180 gradi per una ventina di minuti controllate sempre il forno e la cottura trascorso il tempo necessario andiamo a sfornare i biscotti e li lasciamo freddare li spolveriamo con abbondante zucchero a velo e poi andremo ad impiattarli ecco pronti i miei biscotti con gli oreo anche questa ricetta è terminata come sempre vi ricordo di lasciarmi nei commenti i vostri saluti le vostre idee e soprattutto fatemi sapere se preparate i miei biscotti e come vi sono venuti se avete dubbi o volete dei chiarimenti basta che mi smantate un messaggio sotto nei commenti io vi risponderò più presto vi ricordo come sempre che in alto a sinistra nel video vi lascio il link per una dintra ricetta come quello per la pasta frolla per preparare questi biscotti e un saluto a tutti e a presto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti